Genova, capitale italiana del libro 2023, a Palazzo Ducale gli editori del territorio incontrano il pubblico. Giorgina Zapparoli. Nel segno del Mediterraneo il primo degli incontri con gli editori genovesi è l'avvio di un progetto condiviso che arricchisce le proposte di Genova, capitale del libro. Tra Palazzo Ducale e le biblioteche urbane, dieci gli eventi, ognuno su un tema diverso che fino a marzo illumineranno la sofisticata realtà editoriale della città. Gli editori genovesi sono molto specializzati in quello che fanno, nel tempo hanno sviluppato un'attenzione rispetto ai temi su cui operano davvero molto verticale e quindi hanno competenze da distribuire in città, vogliono farlo in maniera più capillare, creando un rapporto più diretto con i propri lettori. Specializzati, sofisticati, molti con una lunga storia, sono una ventina gli editori che hanno fatto causa comune e l'attenzione alle sfide del futuro non manca. Gli editori genovesi non solo fanno ebook, ma utilizzando delle app o i QR code hanno introdotto i contenuti multimediali all'interno dei libri e oltre il 30% degli editori genovesi ha una produzione nazionale di questo tipo. Metà di questa avventura è gli stati generali dell'editoria Ligure, che a maggio sarà ospite del Salone del Libro di Torino, ma lo sguardo degli editori è già rivolto verso la Buchmesse di Francoforte. È una fiera per addetti ai lavori, ci si scambiano opinioni, diritti, contratti fra editori di tutto il mondo, quindi dobbiamo esserci.